Sì, SEPAR è un è un movimento, non è una organizazione, è un movimento ambientalista che nace hace già più di 30 anni per la iniciativa di una persona, che è il capitano Paul Watson. In quel momento, era uno dei activisti che partecipava in le campanze di Greenpeace, però era un momento in cui aveva un planteamento che era che aveva che intervenire con acción directa, non violenta, e era totalmente legittimo intervenire incluso inhabilitando los medios che si utilizzano per cometer il crimine ambiental. Era una nuova forma di entender la lucha ambiental, diceva che la violenza solo si può eserciare per le persone, non solo una gruia o un arma che sta attuando ilegalmente. Quindi considerava che che aveva che intervenire per impedire che funzionaran ilegali, che funzionaran ilegali, e a partir di allora nació una nuova forma di entender la lucha ambiental che, più di 30 anni dopo, si ha convertito in qualcosa che ha cresciuto in tutto il mondo, hai una flota di 10 embarcazioni, ha cresciuto molto. La idea è stata una idea utile e una idea abbastanza bene che comprende che luchare per defender il mondo è già una urgencia, ose, già vanno tardi. Aolder Radio è al altro lato del espello, al altro lato del espello è il nome che abbiamo posto a questo programma e che sorgì di casualità è stato un giorno un giorno che trajimo a la radio un mago che 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 ha fatto magia per la radio che è una cosa molto divertita e molto extraa e quindi il programma non aveva non aveva al altro lato del espello e mi parecì una metàfora molto interessante e è vero, sempre parlavamo del viaggio al altro lato del espello nostro nostro animo è collaborare con con los mensaggi che da moltissimi estamenti, da moltissime organizazioni gubernamentali gruppi di volontari gente molto activa per tutto il che che st lavorano per la biodiversità il equilibrio marino la protezione dei mares è la gente la gente la gente vive de espaldas al mar incluso la gente vive del mar vive de espaldas del mar la gente vive directamente del mar tampoco es plenamente consciente de lo che hay ahí che 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 parte vive un poco fuera entonces necesitamos hacer que el mensaggio llegue y al otro lado del espejo forma parte de eso nos interesa todo lo que viene del mar intentamos ser soporte Intentiamo essere sopporti di qualche modo di tutto quello. Siamo NACAWE Project, siamo una organizazione di conservazione marina, una ONG di conservazione marina. Stiamo enfocati esclusivamente nel tiburone, in principio ora stiamo lavorando con il tiburone. Questo è perché sta nel top di la cadena tròfica marina e, secondo il problema che può avere, se desaparece. Investigatori dicono che in 50 anni può essere che il tiburone. Questo può produire un effetto in cascata che può essere determinante nei mares, e non solo nei mares, ma anche in scientifiche. Io non sono scientifiche, ma ho sento investigazioni che ci dicono che può avere anche effetti nella Tierra. BASICAMENTE siamo ubicati, siamo molto joveni, hace due anni che abbiamo iniziato con la ONG, e siamo ubicati in Barcelona, ma abbiamo, soprattutto, proiecti un po' distribuzione per tutti i lavori. Qual è il primo impatto che succederebbe? Il primo impatto, soprattutto, viene debido a la pesca, tanto ilegal, indiscriminata, e, soprattutto, curiosamente, in molti santuari che, teoricamente, se tendrían che protegere. Nosotros empezamos tutto questo proiecto con un volontariato che facciamo in la isla del Poco, in Costa Rica, che è un patrimonio della humanità della UNESCO, e che non è stata stata protegita. Teoricamente, sia un patrimonio nazionale della UNESCO, non ha habito un controllo come se tendria che tenere. Il impatto del tiburone, soprattutto, è questo, la pesca, il aleteo, per un lato. Ora, in Costa Rica, il aleteo non è una cosa che sia così grave, è più grave tutto il tema della pesca ilegal che sta al reddore del tiburone, per colpa della sopa di aleta di tiburone, e altri derivati. L'etro Cadebuceo è avere un centro di documentazione lo più grande possibile, con tutta la informazione marina, submarina, entorno marino, per aumentare il conoscimento e aiutare a preservare la marina. La fondazione è registrata nel Ministero del Medio Ambiente, che è una fondazione ecològica medioambientale. Il obiettivo è limpiar la mar in la medida di nostri possibilità, ma è una biblioteca. La biblioteca è creando qualcosa per che un giorno entri in la red, e che l'Europa, l'Europa entera, possa disponere di conoscenze. Siamo una associazione, fondamentalmente, di guceadores, che ci dediciamo a difendere i tiburoni in generale, e in particolare il tiburone angelo, scuatina-scuatina, o anche denominato angelo, che è una delle specie, che è un gruppo delle 100 specie più amenazate del mondo animale. Afortunatamente, in Canarias, possiamo disfrutarla in l'inversione di questo animale, di una maniera abbastanza frequente, e non ci diamo conto di che abbiamo un tesoro escondito in nostri luci, perché questa specie è quasi al borde della distinzione, in tutto il suo area di distribuzione, il Mar del Norte, il Atlantico Norte e il Mediterraneo. e, sin embargo, in Canarias lo abbiamo di maniera abbastanza. In generale, lo che ha fatto quasi a essere distinguiti nella zona di distribuzione ha sido la pesca di arrastre. Questo è un animale che si conosce già da gli occhi, si ha avuto la carne e la piel da l'antaggio, ma è fondamentalmente la pesca di arrastre. Che succede in Canarias? Che come abbiamo, non c'è quasi la piattaforma continental, non si pratica la pesca di arrastre. E, di maniera abbastanza, è un animale bentonico, non lo troviamo enterrato, è un animale nocturno, durante il giorno non lo vediamo che non è desenterrato, ma lo troviamo di maniera abbastanza. Che ci succede in Canarias? E perché non ci siamo stati in una asociazione? Beh, che ci sono le persone di pesca deportiva, che, anche loro non possono pescare animali bentonici, quando non conseguono la pesca sufficiente per i loro clienti, non possono pescare la parte poco profonda, capturano angelotes e lo publicano in la web. Este è uno dei pochi tiburoni che è protegito di maniera legal, per la Unione Europea e, per esempio, in España. Non si può pescare e non si può subire a bordo. E noi ci siamo trovati con che le pesca di pesca deportiva publicano tutti i giorni capturati di questi animali. abbiamo denunciato sucessivamente questo al gobierno canario e abbiamo tenuto non molto appoglio desde il punto di vista institucional per multare, sino, più bene, che possiamo fare. E noi, di una posizione participativa e educativa, abbiamo conseguito che il gobierno canario pubblicare un cartello di especii protegiti, che queste imprese hanno che portare come documentazione nel barco exposto al pubblico. creiamo che di questa maniera i clienti, che sono i turisti che vanno a Canarias, si vanno a concienciare e non vanno a voler a fare qualcosa di legale. e non vanno a concienciare e non vanno a fare qualcosa di legale. questa red di vigilanti marini sta arrivando a la gente e sta enviando mensaggi realmente interessanti e contundenti. mi interessa moltissimo questa vertiente, per esempio, social, che se le sta dando, no? è a dire, il buceador, già, per ente, è una persona sensible, è una persona che, diciamo, molte volte che si conviene in abbattatore del medio marino, perché abbiamo questa posibilità di viajare al otro lado del espello e vedo lo che la maggior parte della gente non ve. la maggior parte della gente, la maggior parte della gente se queda in la superficie e punto. noi vediamo il stato dei ecosistemi, il stato dei fondi, se c'è un deterioro evidente, compariamo perché viajiamo fuori anche e possiamo vedere alcuni mares incredibili per lì, alcuni ecografi, anche con molti e nostri spieghi, alcuni, attenzione, per molti nostri spieghi, sono veramente deteriorati. Iniciativa della Regia di vigilanti marino mi sembra molto interessante, questo compendio di federazioni, di volontarii e altri, c'è un montaggio di iniciativas che ci sono stati e ci piuttano molto. E, di da, noi vogliamo formare parte del risultato Quere essere un eslabone più di questa red e collaborare con la divulgazione e la difusione. I buceatori, deportivi o professionali sono una pezza clave in la lucha ambientale, per la seconda ragione, la lucha ambientale marina ha una difficoltà e è che quasi tutto lo che succede, quasi tutte le cose terribili che succede, succede sotto la superficie e la immensa maggior parte della popolazione, la sua unica aproximazione al mar è accettare alla playa e in la superficie del acqua sembra che non passa nulla. Quindi, cosa succede? Che sono la gente che penetra questa barrera, entra e ve lo che sta succedendo a l'acqua sotto il limite che ha la profondità del buceo. Però è importantissimo, perché se tu non ti sumerges e non facessi una inmersione e non facessi una inmersione durante anni e volvi al mismo sito, praticamente per la popolazione è impossibile vedere in prima persona che è lo che sta succedendo, salvo che qualcuno lo filmi e se lo muestre. Quindi, lo buceo, per supuesto, sono testigos directos, hasta i 40 metri, per esempio, sono testigos directos di quello che sta succedendo. Osea, la participazione dei buceo io la vedo come fondamentale. Inoltre in centri di buceo, la concienciazione, soprattutto sulle le limpieza di fondamentale, soprattutto sulle le limpieze di nostri acqua, è che il buceo deve e abbiamo che concienciare la basura che ha. Grazie a quello che stiamo facendo qui, da FEDAS e della Red de Vigilantes Marino, stiamo concienciando cada vez un po' più con le limpieze di fondamentale. Noi abbiamo presentato le limpieza della Bahia di Mazarrò, siamo il centro del buceo del sudeste e abbiamo più di 180 buceo che sono stati facendo le limpieza. Da qui, diciamo a tutti che la concienciazione che abbiamo bisogno di avere, se vogliamo avere un mar limpio, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di fare organizazioni, abbiamo bisogno di animare e, senza nessun lucro, senza nessun nulla, coger e ripieno il nostro mar, coger e quitar i nostri plastici, coger e non echar. E, a parte di tutto, insegnare a nostri alunos, a nostri cose che non è insegnare a buceare, sino solamente è coger e insegnare a la concienciazione. Da la Red de Vigilantes Marino, come noi siamo anche collaboratori, abbiamo una iniziativa per l'España, con FEDAS, che stiamo facendo lo più possibile per che questi fondamenti stanno limpio, sano e demás, che non tengiamo tortugas encarcelate, che non tengiamo conglos. Cuidado con la Red de Fantasma, che ci troviamo caos a la deriva, che ci troviamo molte cose, che ci troviamo molte cose. Il principale problema dei residuos è che non si sape la magnitud di quello che stiamo parlando. Ose, hacien, hace 4 anni, fino a la actualità, è dove si stanno facendo tessi doctorali e investigazioni, con la qualità, quanti residuos ci trovano. E i dati che abbiamo, che stiamo ottenendo, superano notoriamente le nostre expectativi. Ose, quindi, frente a questo, una delle cose, delle cose, delle cose che abbiamo avuto dentro del Comitè Medio Marino, è la gran limpieza di fondi. Che erano, a nivel nacional, un fin di settimana, tutti i centri di buceo, club di buceo e altri centri che si chiedono implicare, si unono per fare una limpieza di fondi marini un fin di settimana. Di modo che, se le dò la herramienta per non solo limpiare e poter partecipare, tutti i buceatori e tutte le persone che chiedono in questa iniziativa, chiedono in questo modo, anche se le dà le servono di cuantificare. È lo importante, cuantificar quanti residuos si recolectano. Per sembra che, deba Definitely la cota 0, come non si vedo, in questo modo, non c'è, però sì che ci sono. E ci sono molti residuos. Come sono erano le giornate? Le giornate sono sono davanti esitoso. Habe la possibilità in tutte le province, in tutto la spaziae della regione, c'era partecipazione di un centro o club di buceo, anche in Melilla e Ceuta, che anche aveva partecipazione e limpieza, parliamo di tutto il territorio nazionale, in un esforzo colectivo per limpiarli questi fondi marini. Però questo esforzo, lo buono che aveva, è che partiva da un'iniciativa della federazione, del Comitè di Medio Marino, però si extrapolò a tutti gli implicati e gli usuari del Medio Marino. La Red de Vigilantes Marinos ha stato imprescindibile. Abbiamo un progetto, abbiamo un progetto, abbiamo una organizazione con peso nazionale che ci orientasse a come potremmo aiutare, come potremmo realizzarlo. Tutto il supporto lo dà la Red de Vigilantes Marinos, ci dice dove possiamo partecipare, dove si necessitano queste accioni e come potremmo collaborare con queste. Ha stato imprescindibile per noi. In realtà abbiamo una necessità di conservare il fondo marino, di explicarselo a tutti gli altri e di che comprendere la importanza che ha il buceo e soprattutto comprendere le specie e lo importante che è preservare il fondo marino. La educazione ambientale tiene che vera con lo che insegna a tutti i bambini da l'esclusione, anche con lo che i bambini trasmetono a tutti i bambini da casa, anche con lo che i professori sono capace di fare e anche con la importanza della conservazione dei recursos naturali a loro. Però non solo nel entorno colegial e personal di nostri casa, ma anche con le instituzioni, le università, in fin, tutti i estamenti dovrebbero tenere in conto questa questione. Per questo diciamo che la educazione ambientale è un termine che deve essere transversale e che deve imbuire a tutti i estamenti sociali, non solo a tutti i educativi, ma realmente essere integrato in la società a tutti i livelli. non solo a tutti i nostri sambi dimenticati, Abbiamo apprisciato la sua cultura, con lo che i nostri sambi di ricche di rischio, e adesso il nostro è successo quello che siamo convicti, non solo a tutti i nostri sambi di rischio, e ora la nostra Right. Adesso la nostra creativa è una situazione di rischio,